Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il Molise, parte il via. La conta dei danni, criticità maggiori sono state riscontrate, soprattutto a Termoli e a Venafro. Intanto, Coldiretti chiede alla regione di avviare ulteriori controlli. Vediamo. Le previsioni meteo avevano comunicato solo pochi giorni fa l'arrivo di una breve ondata di maltempo e piogge su gran parte dell'Italia e del Molise. Tuttavia, nessuno aveva immaginato che questo cambio di clima avrebbe portato ripercussioni così gravi, soprattutto su colture, vigneti, abitazioni, strade, edifici e addirittura automobili. A Venafro e a Termoli sono state riscontrate criticità maggiori. A Termoli disagia la circolazione, allagamenti in molte strutture della città, come all'interno del Santimoteo, alberi caduti, fognature danneggiate, fenomeni franosi e desondazioni di corsi d'acqua. Sul web non sono mancate foto e video ed immagini a dir poco preoccupanti di strade impraticabili e smottamenti. Nella zona di Riovivo è mancata per molte ore e la corrente e un tratto di strada è ancora impraticabile. A Venafro a subire danni soprattutto le abitazioni e molte e moltissime auto. Anche qui non sono mancati allagamenti, soprattutto all'interno di numerose strutture pubbliche e private, ad esprimersi e a mobilitarsi sin dalla giornata di oggi il primo cittadino, Alfredo Ricci, fortemente preoccupato dopo l'avvio della conta dei danni. È stato un fenomeno veramente eccezionale. A memoria non si sono mai viste situazioni di questo tipo e i danni sono stati generalizzati. Parliamo di autovettura, non c'è un'autovettura che possa essersi salvata. Parliamo di edifici, sono diversi danni ai tetti, alle coperture, non solo le coperture più precarie ma anche alle coperture più stabili. Parliamo anche di danni alle attività, in particolare all'agricoltura. Ho già preso contatti con la Goldiretti per capire anche come concertare eventualmente delle azioni. È difficile oggi fare una stima precisa, però possiamo dire che ci sono stati danni generalizzati. Ieri ci siamo sentiti anche con il prefetto per fare il punto della situazione. Ho preannunciato che oggi avrei fatto partire come comune una richiesta di riconoscimento dell'eccezionalità della situazione meteorologica che si è verificata ieri. Chiaramente questa richiesta vuole essere finalizzata ad ottenere, attraverso il riconoscimento della situazione di ieri, ottenere una qualche forma di riconoscimento, di risarcimento per i tanti, tutti i cittadini che sono stati danneggiati.